90 mila euro al mese e va a dire che è di qua gli operai, che lavoro fisio e monotono. Mamma che vorrei andare là in 100 di qua, in 200 e ti spingi di qua. Mamma mi lo faccio dal mondo di qua, non è che mi arrendo, ma apri il fuoco e dopo ti dico che mi arrendo. Prima ti tiro, per provare a tornare la casa, ti vedrai di qua, ma comunque prima o poi quel giusto è di cata, il cata mia tutti di qua, è di cata quel giusto. Oh, guarda la cata capitare che cata uno, sai come che è la che cattirà in faccia la statuetta Berlusconi? Ti catti quel con arma nascosta, gli è bello a posto, vabbè, si si no ma si cata quel che ha la pistola, dopo ti dico a voi vede, lo dite cata mia tutti, basta chi spetta che vaga a parlare fuori da qualche parte, qualche d'uni, sono le mie belle robe però ti dico a un certo punto, ti vai anche in cerca ti dico a vabbè, ci sono disegno se la chiara, ma quando che uno non capi niente da perda, quel che si suicida, è quel che il tecupa, cioè non è che, che inda bene chi accata quei, che si suicida ma, prima o poi se catti anche quel che il tecupa, ha, 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 ha... I coglioni, ma veramente eh. Dopo, ti rovino anche il futuro dei fioi, ti capisco Sergio? E ti sottoscaccio perché se ti muoio ti rovino i fioi perché ti arresta, ti capisco. Se ti muoio, ti lascio che ti rovino... E allora, Dio, come soffermo? Sento cosa che vuoi? L'ho detto una mattina al bar, perché la mattina vuoi al bar a bere il caffè. Uno che ha detto che vuoi il legno, Dio, l'ha detto. L'amico ha detto che vuoi il legno, vuoi la spranga del ferro. Bisogna sprangarli, Dio. Bisogna sprangarli talmente tanto che una volta che è in coma bisogna continuare, Dio. Per essere sicuri che mora, Dio. Bisogna fermarci. Bisogna continuare a darli anche dopo i morti, Dio. Perché semmai qualcuno magari li spegnuo ed è ancora vivo, ti capisco? Ho detto cosa che è? Che secondo me gli ha fatto, i politici che caghera, gli ha fatto un danno talmente grosso. Che ne le dice neanche, ti capisco? Secondo me non gli è mia 2 miliardi, gli è piacere. Gli avrà fatto di chi danni fuori da te. E allora sto qua, Dio, come l'unica via, le... Lasciare, ti capisco? Amici e buoni di fingersi morti, ti capisco? Perché bisogna sprangarli, Dio. C***o che non ti vedi neri, Dio, poi. Proprio... Anche il discorso lì è... Ma il lavoro fisso è monotono. Beh, anche la pensione da 90 mila euro al mese è monotona. Facciamo che d'ora in poi te ne hai più 800. C***o.